5 chilometri per 190 milioni di euro e l'appalto per il completamento della Fondo Valle Sangro che è stato aggiudicato una settimana fa alla De Santis Costruzioni di Roma. Il crono programma prevede che le procedure di affidamento dei lavori debbano concludersi entro il 2017 per avviare i lavori all'inizio del 2018 e aprire al traffico l'opera entro la fine del 2022. La regione Abruzzo ha destinato all'interno del masterplan 78 milioni di euro che si aggiungono ai 112 governativi. Il tracciato scelto tra le 5 opzioni che originariamente erano sul tavolo di valutazione comprende 5 viadotti per complessivi 1,2 chilometri e una galleria che si estende per 2,5 chilometri e parte dalla stazione ferroviaria di Gamberale Sant'Angelo. L'opera attesa da decenni serve una zona industriale fondamentale per la regione Abruzzo e per il centro Italia quella della Val di Sangro e ha suscitato non poche polemiche per il costo eccessivo dovuto al fatto che insiste in un territorio a forte rischio frana. D'Alfonso parla di una svolta storica nei trasporti della regione al di là di ogni polemica. Ho raccomandato all'impresa ma anche ad altre figure che stanno sugli spalti che l'impresa si innamori di concludere l'opera e di inaugurarla e di metterla in esercizio senza che ci sia quella condotta a volte che riguarda le imprese di immaginare che da cosa nasca cosa e cioè dare fastidio col contenzioso per allungare la consistenza finanziaria e per cercare di guadagnare non facendo l'opera ma facendo contenzioso. Comporterà di legare il sistema produttivo non solo industriale abruzzese anche turistico anche di collocazione identitaria e ambientale dell'Abruzzo alla potenza relazionale del porto di Napoli. Noi abbiamo interesse ad avere questa vicinanza, abbiamo interesse a creare convergenza. Grazie a quest'opera noi rientriamo a pieno titolo nella consistenza delle infrastrutture per la copertura della velocità europea. Io ci credo che ce la possiamo fare, mi auguro che tutto vada a filo.